Siamo di fronte a un miracolo? Certamente no, non esistono fenomeni inspiegabili, esistono fenomeni che non sono stati ancora spiegati in realtà. E la spiegazione che si è prospettata, che è venuta avanti, scartate le altre, è una spiegazione che ci porta ancora una volta molto vicino a noi nel tempo. L'uso della litografia, cioè il ricorso ad un procedimento di tipo litografico per realizzare il testo. Un incidente di percorso nell'uso della litografia ha prodotto questo imbarazzante risultato del testo speculare che si ritrova sull'altra parete. Se ci si fosse concentrati su questo fenomeno, impurezza di cuore, cioè scartando le spiegazioni inverosibili e accogliendo quelle uniche possibili, si sarebbe giunto in recta via alla constatazione che questo è il prodotto moderno di un bravissimo falsario in corso e in un incidente, in un incidente per appunto tecnico. Siccome molti indizi ci portano anche a dare un nome a questo falsario, questo signore, come vedremo, è un personaggio che ha costituito il terrore delle accademie europee alla metà dell'Ottocento, si chiamava Simonidis, poiché sappiamo che lui fosse un greco molto bravo, un grande paleografo, con il bernoccolo del falso, possibilmente di argomento geografico. Noi sappiamo anche di lui che aveva una grande familiarità con la procedura litografica, cioè era uno dei ferri del mestiere del suo osolire nobile lavoro. Questo lo dicono i suoi contemporanei che lo detestavano, ci sono articoli su di lui pubblicati nella stampa tedesca a metà dell'Ottocento in cui si dice state attenti a quell'uomo che fra l'altro è bravissimo nel ricostruire gli inchiostri antichi, sulla base delle ricette note da autori antichi come Plinio e Vitruvio, Vitruvio che a Fanno credo non sia un nome sconosciuto, anzi è un nome di prestigio, e state attenti a costruire perché ha una pratica straordinaria della litografia. Orbene, quando le idee ci si sono chiarite, avvicinandoci all'oggetto studiato in maniera ravvicinata, abbiamo potuto visitare, grazie ad una collega che insegne in Inghilterra e che ha avuto la fortuna, in certo senso, di visitare il museo di Liverpool dove sono conservati gli altri pezzi fabbricati da questo straordinario falsario, ebbene abbiamo potuto constatare che i ferri del mestiere sono ancora lì, cioè non solo ci sono decine e decine di falsi capiri da lui vergati e in parte soltanto pubblicati e commercializzati, ma anche gli strumenti della litografia con tutti gli arredi, la carta bellina, le matite speciali, la pietra, insomma tutto quello che necessario, perché? Perché gli faceva da prima il capire e con un certo trucco piuttosto simpatico lo gabbellava per autentico. Voi mi chiedete come faceva? Mi permetto di dare un suggerimento, perché ognuno di noi potrebbe desiderare di fabbricare qualcosa del genere. Aveva un socio, ovviamente, che era un reverendo della chiesa anglicana, molto addentro in Egitto, conosceva tombaroli, scavatori di frodo, mercanti, eccetera, avevano una larga disponibilità di papiro non scritto, ovvero di papiro che veniva lavato e quindi poteva essere riutilizzato. I due lavoravano d'intesa. L'uno, cioè il bravo, il bravissimo direi Simonidis, vergava un testo su questi fogli di papiro. L'altro, che si chiamava reverendo Stovart, si presentava, per esempio, alla biblioteca di Londra oppure da collezionisti fanatici di egittologia, egittomani si potrebbe dire, e diceva io ho questa mercanzia, naturalmente non conosco bene il greco, non saprei cosa c'è scritto dentro, ma conosco un dotto amico che è nato in Grecia che sarebbe in grado di decifrare. Quindi questo signore veniva convocato e decifrava ciò che lui stesso aveva scritto, e ci riusciva naturalmente, in presenza dell'acquirente, per cui la possibilità di dire hai lavorato in solitudine, hai fabbricato qualcosa, cadeva per il fatto stesso che il disvelamento del contenuto avveniva in queste condizioni. Quindi questo per quel che riguarda la realizzazione impeccabile dal punto di vista del testo di partenza. Dopodiché, poiché si trattava di testi magari anche sconcertanti, un ampio frammento del Vangelo di Matteo, databile pochi giorni, poche settimane dopo la resurrezione, quindi il più antico testo in assoluto del Vangelo di Matteo, che viene alla Chiesa molto da fare perché parla della scoperta del secolo, poiché si trattava, ripeto, di testi così rilevanti, si progettava l'edizione, l'edizione a stampa con facsimile del manoscritto a Piraccio nella tattispecie. E questo è avvenuto, per esempio, questo Matteo è pubblicato in forma sottuosa, in un grande inforio, dove c'è un bellissimo ritratto di fantasia dell'Evangelista Matteo di Mano del Simonin di Spedesimo, c'è una dotissima introduzione in lingua inglese da lui scritta e ci sono i facsimili del testo in questione, ma per fabbricare quei facsimili si procedeva con la litografia. Ecco perché lui aveva bisogno della litografia, fabbricava il testo su papiro, dopodiché la litografia gli serviva per la stampa del medesimo oggetto e lì si è prodotto un incidente. Questo incidente ha determinato un effetto ovvio, che cioè il presunto Artemidoro non è mai stato commercializzato e potremmo anche dire, con una certa serenità ormai che era ancora a Liverpool fino a metà del Novecento. Nel 1907, un grande giornalista inglese, autore di un bellissimo libro sui falsi, si chiama Farrer, visitò questo museo e descrisse in un capitolo del suo libro intitolato Forgeris, per l'appunto i prodotti del simulidis. E sono giunse, ci sono però, oltre quelli che conosciamo, il pericolo di Annone cartaginese, il Vangelo di Matteo e altro ancora, frammenti storici ad espoti e così via, tre rotoli, tre, lui dice, grossi sigari chiusi, arrotolati, chissà, dice ironicamente, questo giornalista, quali tesori dell'antichità racchiudono. Questi tre sigari non ci sono più, quindi ci sono scomparsi. Quando è avvenuto questo? Dopo il 1907 e prima del 2007, allorché la collega anglofona, nostra ambasciatrice presso il Consiglio di Liverpool, ha fatto l'inventario che abbiamo anche pubblicato di questi bambini e quei tre pezzi non c'erano più. Insomma, è avvenuto a un certo momento in condizioni oscure il preliero, la scomparsa, la sottrazione, non saprei quale parola adoperare, di questi oggetti.